Eccoci qua, di poco, di poco, secondo tiro, preso, bravissimi anche la caporena, allora avanti la frazione di Giapiedi, allora i vincitori si spostano di là, quindi chi ha fatto centro si sposta di là, ok, allora, ora siamo con la frazione di Giapiedi, andiamo con il primo tiro, di pochissimo mancato, bravissimi, ora vediamo il secondo, preso anche il secondo per Giapiedi, bravi, bravissimi, allora ci prepariamo, ora tocca con le giacone, prego ragazzi disponetevi, allora siamo pronti, prego il primo tiro, di pochissimo veramente, questa volta veramente pochissimo, secondo tiro, preso, preso anche per con le giacone, allora stiamo andando tutti bene, proseguiamo con Maltignano. Posizione presa, primo tiro, primo tiro per Maltignano, mannaggia non è entrato, come ci mancava pochissimo, secondo tiro, secondo tiro, via, preso, preso anche per Maltignano, benissimo, col motino avanti, allora il piccolino lo facciamo andare un po' più avanti, San Giorgio, ok? Vai primo tiro, preso, preso il piccolo Lorenzo, bravissimo, bravissimo col motino, secondo tiro, mancato, mancato, peccato, però insomma hanno fatto il primo tiro, quindi prendono un po' più di punti, allora avanti San Giorgio, siamo pronti, primo tiro per San Giorgio, mancato, è scivolato lungo il bordo, secondo tiro, preso, preso, bravissimo San Giorgio, allora, avendita, si faccia avanti, posizione presa, andiamo con il primo tiro per avendita, mancato, mancato per avendita, mannaggia, secondo tiro, mancato anche il secondo tiro purtroppo, bene, sarete più fortunati al prossimo gioco, non vi preoccupate, allora, appoggio primo caso, benissimo, benissimo, eccoci qua, anche per la piccolina un po' più avanti, ok, andiamo, primo tiro per faccio primo caso, allora, dobbiamo ripetere, perché le posizioni non erano corrette, quindi, ancora primo tiro per faccio primo caso, mancato di pochissimo anche per loro, secondo tiro, secondo tiro, preso, faccio primo caso, benissimo, ora, Fogliano, posizione presa, perfetto, primo tiro per Fogliano, mancato, mancato di pochissimo, secondo tiro, secondo tiro, preso, bravissimi Fogliano, ora, ultima frazione in gara, due donne per Manici, allora, ci posizioniamo, primo tiro per Manici, mancato, mancato, ma mancavo pochissimo, insomma, secondo tiro, lanciato e mancato purtroppo, allora, bravissimo, un applauso a tutte le frazioni, tra poco aggiorniamo la classifica, intanto vi invitiamo a riprendere posto presso la tavolata. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.